Buongiorno a tutti, ben trovati sul canale. Oggi un nuovo video, parleremo delle letture che ho fatto nel mese di settembre, quindi strano ma vero, sono super puntuale. È una domenica super uggiosa e quindi, non lo so, provo ulteriore piacere nel parlare di libri in queste giornate, in questa modalità così autunnale. Tra l'altro sono felicissima perché questa mattina abbiamo messo il piumino sul letto. Che bello, perché stanotte avevo freddo. Sono super contenta di questa cosa e sarà una di quelle serate in cui praticamente per me la perfezione combacia perché ho appunto cambiato le lenzuola, messo il piumino, lavato i capelli, pigiamo pulito, cioè perfetto. Tra l'altro ho anche finito oggi un libro e quindi dopo ci sarà la scelta del nuovo libro, altro momento che amo, quindi cosa posso chiedere di più? Non lo so, proprio una domenica perfetta. E niente, io ho qui come sempre il mio quadernino. In realtà questo video ho provato a farlo anche ieri ma non riuscivo a esprimermi, non so perché, non riuscivo a parlare bene, continuavo a ingorbugliarmi e spero questa volta di farcela. Dunque, nel mese di settembre ho letto sette libri di cui ho qui vicino a me solo due cartacee e degli altri libri vi metterò appunto le copertine perché o li ho ascoltati o li ho letti in formato digitale. Allora, direi di iniziare subito comunque, che se no mi perdo in chiacchiere, e parto proprio con un audiolibro che ho ascoltato appunto nei primi giorni di settembre, in realtà l'ho ascoltato mi sembra in un giorno perché dura poco, solo le due o tre ore. E vi parlo della mia amata Amelino Tomb, scrittrice che adoro, ve l'ho già menzionata in altri video, insomma anche su Instagram, ho già letto abbastanza di suo, anche se lei ha scritto tanto e devo dire che mi è piaciuto praticamente tutto, la trovo geniale, originale, pungente, al punto giusto, mi piace, mi piace, mi piace tanto. E cosa ho recuperato? Ho ascoltato Acido Solforico. Tra l'altro vi consiglio tantissimo, non so se ve l'ho già detto, di ascoltare i libri suoi, su Odi, li trovate, perché sono spesso quasi tutti brevi, sono letti molto bene, interpretati bene e anche questo qui non è da meno. Quindi due info proprio su questo libro, pubblicato nel 2005, sono 144 pagine nella versione cartacea e è edito Voland. Dunque, questo vi dico già che è molto tosto, come quasi sempre i suoi libri sono brevi, ma molto intensi, che affrontano tematiche molto importanti. E qui ci troviamo in una sorta di mondo parallelo, nel presente, potrebbe essere tranquillamente appunto ambientato nel presente, in cui esiste una sorta di reality show, cioè non è una sorta, è proprio un reality show, un programma televisivo, che si chiama concentramento. Ovviamente, ovviamente, da che cosa prende il nome questo programma? Dai campi di concentramento. Se sentite il rumore, scusate il mio compagno che è un po' malaticcio e tossisce. E in che cosa consiste questo programma televisivo stupendo? Praticamente si va proprio a ricreare un campo di concentramento, vengono rapite delle persone a loro insaputa, quindi i prigionieri non scelgono di appunto partecipare a questo reality show e dall'altra parte, ovviamente, abbiamo le guardie. Ora, noi poi seguiremo la vicenda di una prigioniera in particolare e di una guardia in particolare, ma non voglio soffermarmi troppo su questa parte di trama, perché, a parte che è brevissimo e poi, se no, magari rischio anche di fare spoiler, ma vorrei più che altro condividere le mie sensazioni e ciò che mi ha fatto provare questo libro, che per me è stato angosciante. Ovviamente sì, ecco, non vi ho detto, ogni due giorni, no, ogni giorno, scusate, che cosa succede all'interno di questo campo di concentramento? Vengono scelte due persone da uccidere in diretta. Inizialmente questa scelta viene appunto fatta dal programma stesso, adesso non mi ricordo se dalle guardie o comunque da chi gestisce il programma, poi, in seguito, questo potere decisionale verrà dato proprio agli spettatori, quindi a coloro che guardano il reality show tramite una sorta di televoto, una cosa del genere. Ecco, questa è la premessa di questo romanzo e ovviamente tutto ciò è una grandissima riflessione e anche una provocazione che fa l'autrice proprio nei riguardi della società odierna, l'ipocrisia che ci caratterizza, l'indifferenza che regna, direi, sovrana. Basti pensare, ad esempio, a quante notizie riceviamo tramite social, giornali, radio, tv, eccetera, di cronaca nera, quindi di omicidi, assassini, e quanto noi ormai siamo davvero abituati a sentirle e abbiamo costruito questo muro di indifferenza che, se ci pensate, è veramente preoccupante, quindi sicuramente fa tanto riflettere su questo, su quanto può essere pericolosa questa indifferenza. La domanda che ci si pone è questa, ovviamente in riferimento alla tematica del romanzo, ma poi in realtà è una domanda molto più universale che appunto riguarda poi tutti noi e è proprio quella di dire ma il vero cattivo, il vero carnefice, in questo caso chi è la guardia o chi guarda questo programma senza dire niente, magari indignandosi, perché ovviamente c'è la parte di ipocrisia, ma poi comunque tu lo stai guardando lo stesso questo programma, quindi alla fine sei il complice di questo sistema. Tosto, veramente tosto, poi vabbè lei ha sempre questa scrittura molto originale, graffiante, pungente, non le manda certo a dire e mi è piaciuto, mi è piaciuto perché come tutti i suoi romanzi mi lasciano qualcosa e quando un libro fa questo, cioè per me è già vinto insomma, perché comunque l'ho letto più di un mesetto fa, io continuo a pensarci, ne ho parlato insomma anche con persone vicino a me perché effettivamente è angosciante la cosa più angosciante per quanto mi riguarda è che non si tratta di un classico distopico in cui sì magari leggiamo di una società però molto lontana da noi, potremmo arrivarci però anche no, ecco no, qui si parla di una società che praticamente viene descritta la nostra società, il nostro presente è molto vicina alla nostra realtà, quindi secondo me questa è la cosa più angosciante perché ti apre proprio gli occhi bellissimo e volevo vedere se avevo scritto altro perché sapete che io mi prendo poi appunti mentre leggo perché se no mi dimentico le cose ma non mi sembra ecco proprio scritto che quando ho finito l'audolibro perché io l'ho ascoltato mi ha proprio lasciato l'amaro in bocca, effettivamente si, vi lascia proprio di stucco, dite oh mamma, tosto, bello però insomma abbastanza intenso. Ok, andiamo avanti con un altro libro che ho letto in formato digitale quindi anche qua ci sarà copertina da qualche parte, si tratta di L'educazione di Tara Westover, è edito da Feltrinelli nel 2020, sono 384 pagine e appunto come vi dicevo l'ho letto in formato digitale. Allora, passiamo da una storia tosta a un'altra storia tosta ovviamente per motivazioni totalmente diverse. Questa è un'autobiografia in realtà perché è proprio l'autrice che ci racconta la sua storia, più che la sua storia, la sua infanzia quindi è una sorta di autobiografia, mista formazione insomma, ci racconta proprio ciò che lei ha vissuto da quando è nata fino a quando è diventata insomma più adulta, adesso non vi so dire di preciso l'età. Allora, partiamo proprio da dove è ambientato, siamo Tara che appunto è l'autrice, nasce in una famiglia mormona e siamo in America in un paesino sperduto nelle montagne e se non sbaglio, l'ho scritto forse da qualche parte, si ha una sorella e due fratelli quindi diciamo che in questa casa vivono la mamma, il papà, Tara, la sorella e due fratelli. Se non sbaglio Tara è la più piccolina, non vorrei dire una cavolata ma mi sembra di sì e seguiamo tutta la sua infanzia appunto all'interno di questa famiglia che dire che è disfunzionale è poco soprattutto il padre che poi in realtà è colui che è a capo di questa famiglia perché poi anche la madre non è che abbia tanto voce in capitolo quindi diciamo che è tutto influenzato proprio dalle idee del padre che sono folli. Vi dico solo che questi bambini non hanno mai ricevuto un'educazione e oltretutto non sono neanche mai stati registrati ad un'anagrafe quindi lo Stato non sa effettivamente della loro esistenza aiutano durante il giorno insomma la madre e il padre nei lavori domestici se così vogliamo ma non solo domestici perché se non ero il padre è una specie di officina comunque un lavoro molto tosto, molto duro fin da quando sono piccolini e non hanno neanche mai visto un dottore quindi figuratevi, figuratevi lei ci racconta un sacco di episodi che ha vissuto veramente traumatici però ovviamente noi li leggiamo traumatici perché per noi sono appunto episodi molto lontani da ciò che probabilmente è stata la nostra infanzia per l'autrice in quel momento era la normalità quindi insomma capite bene che è un libro abbastanza che vi segna non so se farvi altri esempi perché poi è bello insomma leggerlo bello, sì è bello leggerlo e anche scoprire insomma cos'è successo a questa ragazza e ad esempio anche qua mi sono scritta delle cose perché mi sono rimaste proprio impresse che fino a 17 anni Tara era praticamente proprio isolata dal mondo vivendo in questa famiglia e non sapeva neanche di episodi successi in passato o presente a livello ad esempio mondiale quindi lei quando ha iniziato ad andare a scuola perché poi prenderà la decisione di andare a studiare non conosceva l'olocausto e non sapeva neanche che cosa fosse l'attacco alle torri gemelle quindi pensate a che livelli appunto erano messi questo perché il padre aveva tutta una sua ideologia per lui lo stato era il nemico per lui c'era la fine del mondo quindi bisognava appunto contare solo su se stessi solo sulla propria famiglia mai fidarsi degli altri tutto ciò che era fuori dalla famiglia era un pericolo e quindi per questo loro vivevano così isolati e con queste idee folli in testa sempre con questa paranoia del fare provviste quindi lui aveva costruito anche dei bunker una sorta di bunker sotterraneo con un sacco di provviste per un eventuale appunto fine del mondo cioè di quelle cose veramente assurde e questi bambini hanno vissuto nell'angoscia più totale di quello che poteva succedere oltretutto avevano paura proprio visto ciò che diceva il padre delle altre persone della società erano terrorizzati e veramente cioè non lo so infatti ovviamente questi bambini non sono venuti su proprio almeno non tutti proprio benissimo lo possiamo anche capire insomma date le condizioni in cui vivevano e ad esempio un fratello prenderà delle vie non proprio non proprio pulite e sarà una persona estremamente violenta soprattutto nei confronti delle donne e anche delle sorelle quando è a casa e comunque insomma una situazione veramente veramente ai limiti però oltre a ciò quindi oltre a raccontarci tutta la sua infanzia è anche un libro che comunque o meglio più che il libro l'autrice ha proprio bisogno di raccontare il suo riscatto e di come ha fatto proprio a crescere e a liberarsi comunque da questa famiglia tossica che non è una cosa per nulla facile e qui si apre una grandissima riflessione sull'importanza anche del legame di sangue quanto importante ad esempio io sono una forte sostenitrice del fatto che per me il legame di sangue non è assolutamente tutto ovviamente è importante ci mancherebbe ma non credo che sia una cosa da mantenere viva non credo che il rapporto con la famiglia sia una cosa che per forza bisogna mantenere anche nel caso in cui questo ti faccia star male come in questo caso spero di essermi spiegata quindi ti fa proprio ragionare anche su questo lei stessa ragiona su questo ci sono molte sue riflessioni è un bellissimo libro mi è piaciuto tantissimo e mi sono affezionato ovviamente l'autrice non ci si può non affezionare insomma perché racconta di quelle cose veramente io adesso rido per non piangere però di quelle cose veramente drammatiche che le sono accadute insomma se lo leggete fatemi sapere ma bello mi è piaciuto tantissimo e sono davvero contenta che comunque sia riuscita a uscirne e non vi dico ovviamente in che modo però fa anche tanto riflettere su quanto la tua famiglia abbia poi potere e influenza su di te anche nel futuro perché sì lei è riuscita a superare determinate cose a essere più indipendente e a emanciparsi ma ovviamente si porta dietro comunque dei traumi che nulla può cancellare ciò che lei ha passato e quindi sicuramente fa tanto riflettere proprio sulla famiglia in sé e su questo legame poi andiamo avanti scusatemi mi rendo conto che oggi non sto coniugando magari benissimo i vermi brava Sara i verbi e anche la costruzione delle frasi ma non so sono un po' così poi andiamo con un altro libro appunto che ho letto in formato ebook di Simenon autore che a me piace sempre molto anche se spoiler questo non mi ha fatto impazzire e si tratta di luci nella notte l'ho letto perché è molto breve volevo una lettura appunto magari un po' sì una sorta di giallo misteri dalle tinte un po' cupe però non mi ha fatto impazzire sono 166 pagine edito ad Elfi sì è stato pubblicato per la prima volta nel 1953 allora questo è un libro un po' particolare sicuramente vi tiene incollato alle pagine perché volete capire cosa sta succedendo e poi io amo il modo di scrivere di Simenon mi piace sempre tantissimo quindi assolutamente la mia opinione su questo non cambia l'unica cosa è che quel finale l'ho trovata forse un po' scontato o magari io mi aspettavo qualcosa di diverso e sono rimasta delusa allora tutto parte e diciamo che in realtà tutta la vicenda viene si svolge all'interno di una macchina o meglio durante un viaggio in macchina abbiamo questa coppia marito e moglie che stanno andando a prendere i loro figli ambientato in America se non erro tipo vicino a New York comunque non mi ricordo di preciso e partono in questa giornata tra l'altro super piovosa anche le condizioni meteorologiche diciamo che rispecchiano molto l'atmosfera di questo romanzo perché è una serata giornata barra serata appunto molto piovosa con tempeste uragani insomma si capisce che c'è qualcosa che non va anche proprio dal punto di vista meteorologico e appunto partono per questo viaggio perché devono andare a prendere i loro bambini che hanno passato l'estate in una sorta di cos'era in una casa adesso non mi ricordo mi ero scritto forse qualcosa qua e no comunque stanno andando a prendere i loro figli sì perché ho scritto mi sono insegnata che hanno passato un mese di vacanza lontano insomma da loro e che cosa sappiamo noi sappiamo che questo uomo ha dei problemi forti problemi con l'alcol e questo è spesso appunto argomento di litigio fra lui e la moglie e non mancherà il litigio neanche in questo caso non vi voglio dire troppo dall'altra parte appunto noi seguiamo queste due persone che vanno a prendere questi bambini e poi sappiamo al contempo che proprio in quel momento è evaso dalla prigione un pericoloso killer non vi dico altro queste sono le premesse ovviamente la vicenda di queste due persone di questi due coniugi e questo killer andranno ad incontrarsi per un motivo allora vi dico che sicuramente come vi dicevo prima vi tiene incollate le pagine e c'è proprio un crescento di ansia quando leggete c'è sempre qualcosa che vi lascia un po' perplessi sapete che c'è qualcosa che non va io ho detestato il protagonista uomo il marito non mi ricordo neanche come si chiama l'ho proprio Steve ok non mi è piaciuto proprio comunque insomma non è sicuramente neanche descritto nei migliori dei modi fino poi al risvolto finale accadranno delle cose però non lo so mi ha lasciato un po' perplessa il finale mi aspettavo qualcos'altro forse qualcosa di più impattante invece sì ho finito di leggerlo e ho detto ok vabbè non male mi ha intrattenuta però nulla di più quindi magari vi consiglierei altro di suo sicuramente però non è un brutto romanzo e poi lui scrive sempre benissimo poi andiamo avanti con un libro che non mi è piaciuto quindi non ve ne parlerò troppo perché non so non mi piace parlare troppo dei libri che non mi sono piaciuti mi sembra di perdere tempo sto parlando di e questo ce l'ho qui in cartaceo Joyland di Stephen King vi ho già fatto un post su Instagram su questo libro è un libro di mi sono scritta qua 351 pagine e è stato pubblicato il 16 febbraio del 2016 le premesse c'erano tutte per essere un possibile appunto libro che mi sarebbe piaciuto anche qua non so come sto parlando però poi alla fine delusione totale di che cosa parla abbiamo un parco di divertimenti in cui è successa una tragedia perché è morta una ragazza in una determinata attrazione quindi si pensa che questo parco di divertimenti sia infestato quindi insomma paranormale presenze fantasmi eccetera sembrava adattissimo a questo periodo abbiamo dei ragazzini soprattutto un ragazzino che è il nostro protagonista che va a lavorare in questo parco di divertimenti e inizierà a indagare insieme ad altri suoi amici proprio su questa vicenda e avranno anche delle esperienze insomma un po' inquietanti e non vi dico altro quindi insomma le premesse c'erano tutte Stephen King scrive sempre benissimo e i personaggi sono caratterizzati molto bene soprattutto il ragazzino ora io non ho tanto apprezzato innanzitutto una storia che verrà fuori di cui non vi parlo troppo tra questo ragazzino e una mamma con un bambino che appunto abita lì vicino al parco l'ho trovata un po' campata per aria sinceramente anche abbastanza inutile all'interno proprio della trama della storia però vabbè ok poi fino a praticamente tanto così del libro quindi voi avete già letto tutta questa parte praticamente quasi tutto il libro non succede nulla nulla se non proprio qualcosina e questa cosa mi ha fatto nervosire tantissimo un sacco di descrizioni tutto quello che volete scritte bene ok però cioè no se la trama è questa e vuoi cercare di suscitare in me comunque un po' di brividini di paura non far succedere niente fino a questo punto qua capite bene che non è la via giusta per quanto mi riguarda infatti paura non ne ho provata neanche inquietudine se devo essere sincera no il finale è banale scontato banale prevedibile per quanto mi riguarda non ci sono colpi di scena è scorrevole per carità però non c'è quella cosa che ti tiene incollato alle pagine ora io ho voluto terminarlo per capire se poi che ne so magari il finale mi non so magari mi aspettava una sorpresa un qualcosa di pazzesco invece no assolutamente no niente a me non è piaciuto mi dispiace ma proprio non ve lo consiglio poi andiamo avanti con un altro libro questo ho sempre ascoltato in audiolibro Lois la strega di Elisabeth Gaskell pubblicato il 27 ottobre del 2017 edito da Elliot sono 128 pagine nella versione cartacea allora questo l'ho voluto ascoltare ce l'avevo lì da un po' nella libreria di Audible e visto il periodo insomma e anche perché vorrei fare ok mi cadono gli occhiali vorrei fare un video inerente proprio ai consigli di lettura per quanto riguarda il periodo di Halloween ovviamente essendoci la la figura della strega l'ho voluto recuperare molto carino siamo alla fine del 600 e abbiamo la nostra protagonista che si chiama Lois io intanto leggo un attimo qua perché mi ero scritta due appunti che rimane orfana di entrambi i genitori lei dove abita non ha parenti vicini e quindi viene spedita a Salem dove appunto abitano gli zii allora anche qui il rapporto con gli zii non sarà con gli zii e i cugini non sarà dei più belli e qui vabbè insomma avrete modo di leggere se appunto lo leggerete il fatto è che in quel periodo in quel determinato posto regnava proprio la superstizione la paura quindi veramente si poteva essere sospettate di stregoneria per le cose più minime minime e è una cosa veramente angosciante cioè uno deve avere paura praticamente di fare tutto e ovviamente non è uno spoiler questa donna verrà accusata di stregoneria è un romanzo cupo molto grigio molto tetro ovviamente la tematica non è delle più felici anche perché poi verranno descritte delle scene anche abbastanza violente e soprattutto sapere che sono cose successe realmente ovviamente mi fa cioè mi avevo un nodo in gula quando ascoltavo questa cosa qua ha anche tenerezza c'è una pena incredibile per questa donna e per tante altre che hanno subito lo stesso trattamento però insomma fa parte comunque di un nostro pezzo di storia e mi è piaciuto mi è piaciuto molto poi andiamo avanti con ok ultimi due libri questo è molto particolare tra l'altro sono anche riuscita ad avere cioè ad avere di solito vi parlo dei libri che prende biblioteca però vi metto le copertine perché li ho già restituiti invece stavolta ce l'ho e è grottesco scusate se specchia un po' di Patrick McGrath bellissimo la copertina mi piace un sacco è super inquietante anche il colore molto autunnale allora io di questo autore ho già letto in passato Follia l'unico libro che ho letto ho altri forse due libri da leggere in cartaceo in libreria però come ho visto questo in biblioteca ho detto ma sì proviamo a leggerlo Follia mi era piaciuto molto e quindi ho voluto dare un'altra possibilità se devo essere sincera forse questo mi è piaciuto ancora di più è un libro molto particolare che non saprei bene in che genere incasellarlo perché secondo me sono tante cose messe insieme sicuramente una sorta di misteri molto cupo un po' potrebbe avere anche non so qualcosa di horror thriller insomma tante cose messe insieme ma andiamo con ordine dunque la nostra storia è raccontata in prima persona e da il protagonista che si chiama aspettate Sir Hugo Cole io non so se l'ho pronunciato giusto e siamo non vi ho detto nella campagna inglese in una grande magione o grande villa di questa campagna inglese appunto quindi già l'ambientazione è bellissima e questa villa chiede questo appunto Sir Hugo Cole che è un uomo benestante che vive in questa villa con la moglie e la figlia la cosa che però anche noi sappiamo è che nel momento in cui leggiamo ciò che lui ci racconta lui è praticamente su una sedia a rotelle ridotto a uno stato vegetativo quindi in poche parole lui cioè noi leggiamo i suoi pensieri ok è quello che lui vuole raccontare lui ci vuole raccontare come è successo perché si trova in quella condizione a non poter più praticamente fare nulla sappiamo che all'interno di questa casa arriveranno due personaggi un maggiordomo e la moglie del maggiordomo e accadranno delle cose ci sarà un omicidio e noi però ovviamente seguiamo tutta la vicenda filtrata da dal nostro protagonista quindi questo è uno di quei romanzi in cui abbiamo il famoso narratore inaffidabile estremamente inaffidabile perché noi cambieremo idea tipo venti volte all'interno di questo romanzo saremo prima dalla parte del protagonista poi forse no poi forse sì di nuovo quindi io amo questa cosa perché fino alla fine non riesco davvero a capire dove vuole andare a parare secondo me non si riesce comunque neanche alla fine bene a capire mi è piaciuto moltissimo il termine grottesco è proprio ben il titolo va proprio a descrivere bene questo romanzo e alcuni suoi protagonisti alcuni appunto suoi personaggi no protagonisti personaggi bello mi è piaciuto molto devo dire che l'ho trovato molto strano molto particolare però in un senso positivo sicuramente non banale non ho mai letto nulla di simile e questo me l'ha fatto proprio apprezzare tanto bello veramente questo ve lo consiglio non l'ho mai visto tanto in giro ma ve lo consiglio molto stavo guardando se me l'ho segnata altro esatto ti lascia colpietto sospeso ti incolla le pagine sì proprio per questo motivo perché voi non capite bene dove vuole andare a parare il nostro protagonista se ci è se ci fa è bello 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 poi ultimo libro un genere che solitamente non leggo mai ovvero il fantasy però però avevo sentito parlare di questo libro in un video di Chiara Martini che seguo sempre e niente ho detto lo voglio recuperare e quindi l'ho un po' ascoltato e un po' letto più letto forse che ascoltato si tratta di appunto una trilogia in realtà ovviamente io ho letto il primo dell'orso e l'usignolo che è praticamente scusate la trilogia la notte dell'inverno e il primo volume si chiama l'orso e l'usignolo di Catherine Arden pubblicato il 27 luglio del 2022 da Fannucci e sono 368 pagine molto bello sapete che strano ma mi è piaciuto io non so perché ho sempre un po' questo timore non timore sono un po' magari prevenuta nei confronti dei fantasy non so neanche per quale motivo però ho voluto proprio buttarmi e mi è piaciuto moltissimo innanzitutto l'atmosfera l'ambientazione è bellissima siamo nel periodo medievale in Russia quindi c'è tanto freddo tanta neve anche tanta natura siamo in un villaggio sperduto proprio della Russia e seguiamo la vicenda di Basia se non sbaglio esatto che è una bambina però noi poi la seguiamo anche durante la sua insomma l'età più adulta comunque parte quando è bambina che è molto particolare ha uno spirito molto libero molto affine appunto con la natura e vede delle cose è una bambina che vede delle presenze dei demoni e qui c'è un forte collogamento anche con le leggende appunto russe e il folklore quindi anche qua un'altra cosa che amo e mi affascina sempre tantissimo poi non voglio dirvi tanto altro abbiamo una matrigna cattiva quindi ci sono elementi insomma magari già sentiti però in questa chiave un po' diversa e abbiamo un prete appunto nuovo un nuovo prete che andrà a stravolgere l'equilibrio di questo villaggio e ci sono dei demoni dei mostri delle presenze appunto negative e è praticamente la classica storia del della lotta fra il bene e il male però mi è piaciuto veramente tanto i personaggi li ho trovati ben caratterizzati soprattutto la protagonista mi è piaciuto appunto l'ambientazione tantissimo e non vedo l'ora di leggere anche gli altri quindi sicuramente io ve lo consiglio se anche come me magari non siete tanto abituati a leggere fantasy o siete anche un po' prevenuti dategli una chance perché secondo me è molto molto carino e stavo guardando se ho scritto altro no comunque niente è bello ne parleremo magari più avanti anche finita la trilogia quando leggerò il secondo non lo so perché io effettivamente magari inizio e poi li lascio lì così non sono molto brava a leggere appunto più libri di una serie preferisco gli autoconclusivi ma questo in tutto è anche le serie tv dopo un po' mi scoccio non lo so perché ho voglia di qualcosa di nuovo però credo che invece questa trilogia la terminerò perché devo dire che il primo volume mi è piaciuto molto e niente io ho finito scusatemi se oggi magari ero un po' più sottotono non so perché forse sono particolarmente rilassata in questa giornata e quindi è così anche il proprietà di linguaggio è andato un po' a dormire e niente io spero di comunque di avervi tenuto un po' di compagnia magari avervi consigliato anche qualche lettura appunto per questo autunno fatemi sapere e come sempre consigliatemi e niente io vi ringrazio come sempre per esserci e anche volevo ringraziare tantissimo i nuovi iscritti perché siamo quasi a 5.000 iscritti e per me è un numero non lo so non riesco neanche a immaginarmelo quindi veramente grazie di cuore a tutti quanti vi mando un bacione ciao ciao